Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Sempre in direzione Livorno, rallentamenti per lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest. In A1 in direzione Bologna, 3 km di coda in diminuzione tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 1 km di coda per un veicolo in fiamme al km 316 tra Firenze Sud e in Cisareggello. Sempre tra Firenze Sud e in Cisareggello si segnalano anche rallentamenti per traffico intenso. In A11, rallentamenti per i pristino urgente della pavimentazione tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!